Quando tutto questo sarà finito potremo tornare alla normalità. La sensazione è forte che però sarà una normalità diversa. Cambieranno molte cose rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Di sicuro cambieranno delle cose all'interno del giornalismo italiano perché in questi giorni ci ha salutato Gianni Mura, l'ultimo gigante del giornalismo sportivo italiano, o meglio del giornalismo prestato allo sport e quindi portato il più possibile vicino alla gente. Io ho un ricordo di Gianni Mura, una serata a Pavia in cui lui e Vendrame con la bottiglia di vino al fianco parlavano alla gente, parlavano di calcio e di vita, parlavano a loro modo, apparentemente burbero in realtà estremamente profondo. Parlavano utilizzando le parole giuste, le parole migliori possibili per ogni concetto perché la parola è la missione, deve essere la missione per chi come me fa il giornalista e la parola è stata prima ancora della macchina da scrivere, lo strumento attraverso cui Gianni Mura ci ha raccontato l'Italia e lo sport negli ultimi decenni, nei decenni in cui lui si è messo al servizio della gente perché Gianni Mura e Gianni Brera sono i maestri assoluti per chi fa il giornalista sportivo. Gianni Brera si è in qualche modo inventato un linguaggio per poter arrivare il più possibile per poter nobilitare anche questa branca della società. Gianni Mura il linguaggio lo ha utilizzato, lo ha utilizzato parlando di ciclismo e di calcio principalmente, ovvero lo sport più vicino alla visceralità della gente, l'ambito in cui si può trovare più facilmente l'epica, epica intesa come racconto dell'impresa, intesa anche come creazione del mito, il mito popolare, il mito per la gente, non sensazionalismo, epica. Parole epica, raccontare l'Italia, portare il lettore là dove si crea l'emozione. È stata la missione nella vita di Gianni Mura e allora quando torneremo alla normalità, una normalità diversa, ricordiamoci di questa eredità, un'eredità tanto importante quanto preziosa che ci viene lasciata in questi giorni difficili.